Mario del Giglio. Tutto è. Dall'illusione alla realtà spirituale. Il ritorno alle stelle. Riflessione sulla lettura dei messaggi. Se vi fermate solo alla fluidità del discorso, è come quando vedete scorrere davanti a voi un fiume. Lo vedete pulito, scorrevole, ma non vi fermate mai a prendere un bicchiere per bere un sorso d'acqua di quell'acqua. Ecco perché vi diciamo dovete bere a piccoli sorsi. Non state lì fermi ad osservare il fiume che scorre. Per essere più chiari, il fiume non è lineare. Ad ogni curva e tortuosità del suo percorso trova difficoltà pur mantenendo la sua limpidezza e fluidità. In questo percorso voi avrete difficoltà nel prendere l'acqua e berla. Ecco perché ci sono tanti risvolti nell'accettare i vari modi di esprimersi e così tanti modi per poter bere. Quando sarete in grado di essere voi stessi acqua pura, non sarete più ai bordi del fiume, ma scorrerete limpidi e fluidi così da confluire nell'oceano che vi attende. Entità Luigi Grazie a tutti.